Questo disco, nato in una lunga notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, non ha altra pretesa che quella di essere nei suoi evidenti limiti un documento. Raccoglie infatti i momenti più significativi di un prodigio. Per la prima volta un uomo ci ha parlato dalla luna. Cominciò così. L'uomo, con la sua intelligenza laica, aveva messo un astro nel cielo. Iniziava l'epica dello spazio. Si chiamava Sputnik. Ora quel piccolo globo di acciaio è già in un museo. L'uomo era entrato nello spazio. La via era aperta. Adesso tre astronauti, Neil Armstrong, Eldwin Aldrin e Michael Collins vanno a vedere com'è la luna, la prima stazione dell'universo. Perché? Perché questo viaggio, ha detto Von Braun, è inevitabile come il levare del sole. 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Perché milioni di occhi guardano a sgomento il prodigio, se è un segno della nostra forza? A cosa serve questo volo che riempie di orgoglio e di sgomento l'attesa del mondo? A cosa serve un bambino appena nato? risponde Von Braun. Quest'impresa non allarga solo i nostri confini, allarga anche la nostra coscienza. Viaggiamo in nome della nostra civiltà, ma ci lasciamo dietro un mondo in cui si fanno ancora le guerre, in cui si muore ancora di fame. Non conosciamo ancora tutti i microbi che ci uccidono e tracciamo la mappa della superficie lunare. Tuttavia questo volo era nel nostro destino, ci aspettava da secoli e secoli. Perché? Perché la scienza ha stabilito che tutto nella natura non conosce soste, che tutto è trasformazione. Ora, se la creazione applica questo principio dalla più grande alla più piccola parte dell'universo, non è questo il segno che è lecito trasformare anche la nostra sorte attraverso un moto continuo della fantasia umana? Possiamo dire, ho visto sorgere la Terra. L'Apollo 11 è entrato nell'orbita lunare. AOS, ecco, c'è stata acquisizione di segnale, è stato confermato, tutto è andato quindi alla perfezione per questa prima manovra. Tutto ok, ho ricevuto il GO, il via libera dalla Terra, gli astronauti hanno acceso nella faccia nascosta della Luna il loro motore, hanno frenato e sono adesso sull'orbita ellittica che era stata loro assegnata. Un po' d'aria infuocata che io preparerò vi innalzerà rapidamente da questa Terra, fa dire Goethe a Faust. Il cielo come progetto, un balzo in alto dell'umanità intera per liberarci ciascuno di qualcosa. Siamo testimoni di questo approdo, un evento di cui si parlerà nei millenni. Alle 22.17 del 20 luglio 1969, mentre i fucili sparano in tre parti della Terra, è cominciata l'era lunare. Il LEM si posa in un punto del satellite che abbiamo voluto chiamare Base della Tranquillità. Aspettiamo di sentire dire che sono sulla Luna. Tranquillità base, l'Eagle ha avuto. Roger, Tranquillità, copiiamoci sul giro. Hai un po' di ragazzi che si sono sulla Luna. Sono passati 11 minuti e 58 secondi dall'inizio della manovra, 2 ore e 7 minuti e 21 secondi dalla separazione dalla capsula madre, 4 giorni dal lancio di Cap Kennedy, 8 anni di preparativi per il primo uomo sulla Luna, forse migliaia e migliaia di anni da che l'uomo sogna di andare sulla Luna. Sono arrivati. Che cosa riporterà questa nave spaziale che possa arricchire il nostro spirito? Laggiù, laggiù nella mia isba, cantava Gagarin durante il primo volo. Cosa significa allora navigare nel cielo se basta una casa di legno a legarci alla Terra? L'uomo resta alla misura di ogni cosa, ha già in sé la sua grandezza. Eppure l'umanità non resterà eternamente su questa Terra, disse Zolkowski, il padre dell'astronautica. Sono le 4 e 57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orma di piede umano. Ecco, 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 appare proprio in questo momento. Un applauso qui accanto a noi, dei giornalisti. L'immagine si muove qui nel nostro teleschermo. Ecco, ecco, l'immagine riturbata, 400.000 km. Ecco la gamba sinistra di Amson. Sta scendendo in questo momento. Lungo la scaletta. Continua a scendere tenendosi sul corrimano della scala, scivolando quasi. Ecco il piede. È nel vuoto. Sta provando, sta dicendo Neil Amson al centro di uto. Sto provando. Fra poco l'impronta di Amson resterà lassù. Lo superficie Selenica è un'impronta che secondo gli scienziati potrebbe rimanere per un milione d'anni. E sì, deve aver appoggiato. Ha toccato, ha toccato. Non ha dato la conferma comunque. Vediamo lentamente l'uomo che si allontana. Sì, ormai è decisamente sul ruolo. Non c'è alcuna difficoltà a camminare, dice Neil Armstrong. Ho fatto il primo piccolo passo. Un piccolo passo per un uomo, ma grande per l'umanità. E dopo? Dopo si andrà più avanti. Marte, Venere, più avanti ancora. Comincerà l'epopea del secondo West, dicono dalla base. Perché la nostra saggezza, scrisse Montaigne, è meno saggia della nostra follia. Perché i nostri sogni valgono più dei nostri discorsi.